Buongiorno Nella gendina abbiamo due cose da fare Che cosa? Prima c'è un pesce da fotografare e la seconda c'è un altro pesce da prendere si aspetta una deriva nel borneo nella giungla non è che ho già visto passare le zanzare con le forchette in mano che stanno aspettando di far colazione anche loro stanno aspettando me, esatto i tuoi gambussi che sono tutti beccati prego signorina Buongiorno tira lo zio non so chi fra i due posti di più eh ma facciamo la gara eh oh c'è beu allè 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 buongiorno buongiorno un attimo aspetta adesso vi metto qua no no lì c'è da buttare via tutto napalm no 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 Mi sembra piccolo Mi sembra piccolo Via 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 Non ho più batteria E' dentro Piano piano Guarda che cambia di direzione che fa Che ripianti Basta, basta, basta Sono pure lì eh Un posto così stretto è un casino stare in mezzo Allora Un, due, tre E' lungo anche questo Era andato nella pianta il maiale Era andato nella pianta Era andato C'ho tirato C'ho tirato come un'assassina E l'ho tirato fuori È una femmina di scuro Troppo cattiva C'è un'assassina di scuro E' un'assassina di scuro E' un'assassina di scuro E' un'assassina di scuro E' piccolo anche questo E' piccolo anche questo E' questo mi sa sia che è un altro Mammaa Mamma mia la camarga Mamma mia la camarga La camarga non è per tutti L'assassina è precipitata nel giro di 5 minuti Due canne incagliate Una si è rotta E adesso il diluvio Degli esposti Non parli? No, ho niente da dire No, ho niente da dire